Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. salutes come dice qui Maria Maria Sikinawa salutare per la mia hermana Elsa dice io sono io 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 salute salute sr. Maria tenepauai salute salute sr. Laura también le saluda a usted sr. Laura sr. Sara sr. Sara salude para mi para mi tía Elsa saludos saludos aquí les estoy saludando aquí está su tía aquí está su tía aquí está su hermanita vea cómo está cogiendo ahí los cuyas garas ahí partiendo Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.